1 dal versetto 1 al versetto 6 anche se ci soffermeremo soltanto sul versetto 6 a dio la gloria paolo e timoteo servi di cristo gesù a tutti i santi in cristo gesù che sono in filippi con i vescovi e con i diaconi grazie a voi e pace da dio nostro padre e dal signore gesù cristo io ringrazio il mio dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al vangelo dal primo giorno fino ad ora e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di cristo gesù credo che abbiamo capito che il signore ha cominciato un'opera nella vita di questi cari il signore ha cominciato un'opera nella mia vita moltissimi anni fa oramai verso la prima parte degli anni ottanta e dio fa opere straordinarie dio fa opere che rimangono per l'eternità sapete per diverse ragioni nelle comunità che ho curato c'erano locali c'erano immobili mi sono trovato qualche volta a incontrare tecnici per vedere lo stato degli edifici e a volte anche lunghe procedure e mi ricordo sempre questa cosa che una volta un ingegnere strutturista mi disse dovevamo fare una verifica sullo stato di un immobile di un locale di culto e mi ah pastore quando mi ha detto così pastore nessun edificio è eterno e mi ha cominciato a dare gli anni no mi ha detto se è di tufo così se è di cemento armato così insomma bisogna che noi lo capiamo nessuna opera di mano d'uomo è eterna le piramidi diventeranno polvere l'arena di verona il colosseo la tour e fell la bibbia ci dice che i pianeti passeranno stridente ma c'è qualcosa che dura per l'eternità è l'opera di dio nelle nostre vite perché chi crede in gesù ha vita eterna quando si predica a un culto di battesimi a un matrimonio il rischio è che ci si fermi soltanto a parlare ai festeggiati o dei festeggiati pure ai funerali però lì non ascoltano i morti non siate superstiziosi che la superstizione è peccato io questa sera mi rivolgerò un po a i sei che si stanno battezzando e voglio dirvi quello che già sapete colui che ha cominciato in voi un'opera la porterà a compimento perché dio è fedele ma voglio meditare per tutti noi questa sera per chi quest'opera l'ha vista già iniziare nella sua vita e magari sta vivendo un momento di difficoltà di perplessità fratelli sorelle ricordiamoci che colui che ci ha salvati è colui che si prende cura di noi ed è colui che ci accompagnerà fino al traguardo c'è un'espressione nei salmi straordinaria bellissima di un figlio di credenti che ebbe la sua crisi si chiamava asaf era figlio di credenti e però ebbe una tremenda crisi perché invidiava gli orgogliosi lui cresceva nelle cose di dio educato all'onestà e vedeva i disonesti prosperare mentre lui aveva problemi a un certo punto questo uomo ha una crisi profonda incontra il signore non mi guardate strano sta scritto nel salmo 73 quest'uomo incontra il signore si converte e poi dice una cosa che è un po strana perché lui dice signore tu mi hai preso per la man destra tu mi guidi col tuo consiglio tu mi accoglierai in gloria allora un po particolare perché è come se se dio l'ha preso per la mano e lo guida come fa ad accoglierlo noi sappiamo perché è così vero perché il nostro dio è uno in tre persone il padre il figlio e lo spirito santo il figlio il buon pastore ci è venuto a cercare come pecore perdute ci ha preso per la mano lo spirito santo ci guida e il padre ci accoglierà e noi non vediamo l'ora ma questa sera io voglio anche rivolgermi a magari a chi non crede che di opera per dire che dio opera che quando dio opera nelle vite queste vite lui le trasforma e le cambia filippi la chiesa dei filippesi è la prima chiesa europea è una chiesa che nasce nel corso del viaggio missionario che l'apostolo paolo di una tappa del viaggio missionario dell'apostolo paolo che non vuole fare l'apostolo paolo non voleva andare a filippi voleva andare da una parte ma il signore non glielo permette voleva andare da un'altra parte ma il signore non glielo permette alla fine arriva a filippi guidato dallo spirito santo con una visione una visione particolare passa in macedonia e soccorrici l'opera di dio in macedonia dunque a filippi comincia dunque con una visione celeste di un uomo di dio che è stato chiamato ad essere missionario lui insieme al compagno di missione sila in quello che è il secondo viaggio missionario dell'apostolo paolo si trova dunque in questa città dove dio comincia un'opera questa chiesa cresce questi credenti sono generosi pregano temono il signore a un certo punto sapendo che l'apostolo paolo è prigioniero a roma non sappiamo precisamente dove fosse quando scrive questa lettera se fosse ai domiciliari in una casa o nel carcere ma mertino come piace avventurosamente ad alcuni ma non è importante dove gli fosse sapevano che l'apostolo era nella necessità e gli mandano epafrodito con un'offerta arriva l'offerta all'apostolo paolo e l'apostolo scrive una lettera di ringraziamento e in questa lettera circa 10 11 anni dopo l'inizio dell'opera a filippi l'apostolo dice io ho questa fiducia che colui che ha cominciato un'opera la porta a compimento che cosa stiamo osservando stasera noi stasera stiamo osservando la testimonianza pubblica di un'opera che il signore ha già fatto il battesimo non salva il battesimo per immersione nel nome del padre del figlio e dello spirito santo è uno dei due ordinamenti che cristo ha dato alla chiesa e questo battesimo non ha nessun effetto sull'anima di coloro che vi si sottopongono entreranno solo delle persone asciutte e usciranno bagnate dalla testa ai piedi ci si augura vogliamo battezzarvi per intero ma c'è qualcosa che dio ha fatto nella loro vita il battesimo è testimonianza di qualcosa che è già accaduto un'opera che anzitutto è un'opera di dio ho questa fiducia dice l'apostolo che colui che ha cominciato in voi un'opera la porterà a compimento questa è un'opera di dio non è un'opera di genitori che hanno dato un'educazione religiosa gloria a dio per i genitori che danno un'educazione fondata sulla parola di dio non è l'opera di una chiesa non è l'opera della scuola domenicale non è l'opera di un pastore la chiesa la famiglia hanno fatto il loro lavoro hanno insegnato la parola di dio ma ogni volta che noi insegniamo ai nostri figli la parola di dio non gli insegniamo delle regole che salveranno la loro vita ma gli insegniamo la parola di dio e gli diciamo quello che vi insegniamo voi non siete in grado di farlo ma se confidate nel signore il signore vi aiuterà a farlo è la grazia di dio è un'opera di dio è dio che ha cominciato un'opera filippi è interessante perché noi qui parliamo oggi si usa spesso anche con grande pompa l'apostolo paolo è il fondatore della chiesa di filippi è proprio così poi vedremo la storia di quest'opera intanto voglio parlarvi dell'autore di quest'opera non è paolo apostolo paolo lui è andato a filippi ha predicato il vangelo si sono salvate le persone le ha battezzate ma non è lui il fondatore dell'opera gloria a dio perché la nostra opera non è stata fondata dall'uomo è stata fondata dallo spirito santo gloria a dio perché la chiesa circa duemila anni fa è stata fondata da Cristo Gesù io edificherò la mia chiesa è l'opera di dio è dio che ha salvato le nostre anime il creatore del cielo e della terra mi rendo conto che dico delle cose che oggi dette in pubblico ci fanno cacciare direttamente fuori dal consesso umano se fossimo in un in un congresso particolare io mi azzardassi a dire che c'è un solo dio il creatore del cielo e della terra e che quel dio è il padre del signore gesù cristo il figlio venuto in carne che c'è lo spirito santo che parla ai nostri cuori e ci rigenera io sarei cacciato fuori perché sono un intollerante perché sono un fanatico perché sono un superstizioso un ignorante ditemi quello che volete io credo alla bibbia la parola di dio c'è un solo dio il creatore del cielo e della terra che vuole salvare le anime vuole operare nelle vite vuole mettere mano nelle vite delle persone è un'opera di dio non dell'uomo non della religione non della cultura è di dio o noi vogliamo ricordarlo sempre vogliamo testimoniarlo sempre non è che vi servono i voti ma apprezzo le testimonianze che quando raccontano quello che è avvenuto nella vita raccontano quello che dio ha fatto nella nostra vita perché gesù che ci ha salvati dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo onigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna è dio che salva è dio che libera è dio che trasforma ed è solo lui se qualcuno ha sentito che qualcuno di questi cari aveva un problema e dio l'ha risolto non dica o vengo pure io così mi risolvete il problema così non mi rinchiudo più in casa come succedeva a lui o così non sono più pieno di ansia come succedeva a lei datelo pure a me noi non ti possiamo dare niente noi non ti possiamo fare niente c'è uno che può fare ogni cosa ed è dio è l'opera di dio sì dio ha cominciato un'opera l'autore di quest'opera è dio che ha fatto grazia mandando il suo figliolo gesù per noi l'autore di quest'opera è cristo gesù che ha dato la sua vita sulla croce per noi al posto nostro per colpa nostra sì anche per mano nostra sapete vedo delle persone che ogni tanto soffrono nelle sedie quando ascoltano e dico che gesù è morto per colpa nostra non è molto per colpa mia dicono erano i giudei che erano invidiosi e giuda che l'ha venduto e erode che l'ha preso in giro e ponzio pilato che se ne è lavato le mani sono i soldati che l'hanno messo in croce pastore perché è colpa mia perché la bibbia dice che erano le nostre iniquità il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo ricevuto guarigione noi ringraziamo il signore dio ha fatto un'opera nella nostra vita nella vita di questi cari e dio vuole cominciare un'opera stasera nella vita di qualcun altro e lo fa mediante un metodo semplicissimo dopo l'autore di quest'opera rapidamente voglio parlarvi della storia di quest'opera abbiamo detto che l'apostolo sta scrivendo ai filippesi i cristiani che sono nella città di filippi non immaginate a filippi un locale di culto dove tutti andavano insieme i primi secoli primo secolo primi anni del cristianesimo i cristiani la chiesa di roma non era tutta in uno stesso posto la chiesa di colosse non era tutto in uno stesso posto così quella di filippi e tutte le altre ma erano i cristiani che si radunavano laddove potevano come potevano finché poi dio provvide di più e l'apostolo scrive a questa chiesa dicendo dio ha cominciato un'opera com'è cominciata l'opera filippi l'opera filippi è cominciata mentre l'apostolo paolo decideva dove andare allora che dite fratelli andiamo di qua no signore non vuole allora che dite fratelli andiamo di là no il signore non vuole sapete ho imparato una cosa e se lo paolo mi conosce eravamo più giovani tutte e due io ero molto più deciso quando ero più giovane ero molto più deciso rispondevo molto più velocemente anzi era mio vanto avere sempre la risposta pronta era mio vanto sapere sempre cosa fare più sto con gesù e più ho imparato a dipendere da lui l'idea che il ministro del vangelo debba essere una specie di amministratore delegato galoppante che deve in qualche modo guidare decidere essere determinato è un'idea profondamente antibiblica l'uomo di dio è colui che dipende da dio e l'apostolo paolo non ci fa una bellissima figura in questa storia perché vuole andare a una parte buono ma vediamo a un certo punto una visione passa in macedonia e soccorrici la storia dell'opera che dio comincia a filippi è la storia in cui dio guida un suo uomo in una maniera particolare dice la bibbia che a un certo punto l'apostolo paolo sila luca con lui ed altri con loro dicono a un certo punto capimmo che il signore voleva che noi andassimo a filippi a fare che cosa è scritto negli atti degli apostoli ebbe una visione un uomo macedone che diceva passa in macedonia e soccorrici appena ebbe avuta questa visione cercammo subito di partire per la macedonia sentite convinti che dio ci avesse chiamati là ad annunciare il vangelo il soccorso del vangelo è un'opera di dio che dio compie mediante la sua parola la bibbia eh avete sentito il fratello mi sfugge il nome come ti chiami emmanuel dio ti benedica che diceva che mentre leggeva la bibbia stava bene mentre la leggete voi non mentre ve la leggiamo noi il nostro scopo è donare la parola di dio ad ogni persona perché crediamo che chiunque con cuore sincero umile legge la parola di dio può essere benedetto dal signore perché dio ci parla attraverso la sua parola dio ci parla attraverso la bibbia la chiesa di filippi la storia di filippi l'opera di filippi è un'opera di dio che dio inizia mandando i suoi servi a predicare il vangelo a leggere a spiegare la bibbia la storia di questa opera è una storia particolarissima gli apostoli arrivano in questa città e perché l'apostolo paolo non ci voleva andare fratelli sorelle pazienza voi non l'avete sentito una volta solo l'avete sentito cento volte ma c'è qualcuno che non lo sa perché l'apostolo paolo non voleva andare a filippi non perché fosse disubbidiente o ribelle a dio ma perché l'apostolo paolo come tecnica missionaria andava nelle città dove c'era una sinagoga e cominciavano a parlare come dice l'apostolo nella lettera ai romani prima ai giudei e poi ai gentili l'evangelo a filippi non c'erano abbastanza giudei per avere una sinagoga e a un certo punto essi vanno ubbidienti al signore altra bellissima cosa ma qui mi dilungherei a volte servire il signore significa andare a fare delle cose che magari non faremmo mai e che nessuno farebbe e che non hanno nessun senso arrivano a filippi non sanno dove andare si informano e scoprono che ci sono dei simpatizzanti giudei nemmeno dieci che però si radunano sono delle donne che si radunano presso un corso d'acqua e vanno lì e parlano di Gesù il primo impatto del vangelo a filippi la storia dell'opera di Dio a filippi è che arriva la parola chi sta aspettando il signore in quella città c'erano delle persone che leggevano le scritture che pregavano che aspettavano il messia ma non sapevano che cosa aspettavano e così gli apostoli arrivano gloria a Dio perché il signore parla e cerca quelli che lo stanno cercando erano simpatizzanti giudei c'era Lidia una donna ricca una commerciante di tessuti e questa donna apre il cuore al signore sono lì a filippi e com'è la storia di quest'opera la storia di quest'opera continua l'apostolo insieme a Sila Luca Timotio ad altri si trovano in quella città a un certo punto si incontrano con una ragazza posseduta dal demonio sì la Bibbia insegna anche questo e vabbè sempre più strano sembro però non vi preoccupate una donna una ragazza schiava del demonio di quella schiavitù peggiore perché era schiava ma aveva uno spirito divinatorio spesso il nemico schiavizza le persone pensando facendogli credere per meglio dire di dargli dei doni eh pensate quanta gente è posseduta da tanti peccati tanti vizi piccoli e grandi alcuni che sono hobby innocenti altri che sono vizi terribili tutti che promettono di dare bene alla vita eh questa ragazza era posseduta e l'apostolo paolo prega e libera questa ragazza dalla possessione domeniaca è un'opera di liberazione l'opera di Dio è un'opera di rivelazione a chi sta aspettando il signore ma è un'opera di liberazione a chi è schiavo dell'avversario per quest'opera buona perché nessun'opera buona tante volte rimane impunita non so se l'avete scoperto per quest'opera buona l'apostolo paolo viene imprigionato maltrattato umiliato lui e sila si trovano in prigione e nella prigione di notte pregano mentre pregano un miracolo la prigione trema le porte della prigione si aprono le catene cadono dalle mani dei piedi dei detenuti i ceppi si aprono e c'è un uomo il carceriere di Filippi che probabilmente già una vita molto provata tenta il suicidio gli apostoli lo sgridano cosa stai facendo non ti fare del male siamo qui quest'uomo disperato dice che devo fare e loro credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia un'opera varia Dio si fa conoscere da persone che lo cercano Dio libera una ragazza posseduta dal demonio Dio rinnova la vita un uomo che è sull'orlo della dispirazione un aspirante suicida l'opera di Dio è un'opera straordinaria non dire non è per me perché Dio opera nella vita di chiunque forse tu pensi di non aver bisogno e forse hai più bisogno di chi accanto a te sembra disperato quest'opera di Dio un'opera potente straordinaria di liberazione è cominciata ma dicevo dieci anni dopo undici anni dopo l'apostolo Paolo scrive dalla sua prigione e dice fratelli miei cari desideratissimi allegrezza corona mia che desiderio di vedervi io so una cosa che quello che Dio ha cominciato Dio lo porterà a compimento non so se qualche volta che avete raccontato a qualcuno la vostra esperienza l'ha detto vabbè poi ti passa è una crisi momentanea durerà se è un'opera dell'uomo no se è un'opera della religione no ma siccome è un'opera di Dio sì perché ho questa fiducia dice l'apostolo Paolo io sono in prigione voi non avete più me ma colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a compimento perché Dio è fedele io questa sera voglio incoraggiarvi a credere questo perché oggi più che mai noi viviamo nell'epoca del provvisorio a volte si scherza si scherza anche sulle cose serie prima ci ridevo adesso non ci rido più forse perché ho una figlia che si è sposata da qualche mese ho un giovane uomo come figlio di 23 anni ma si scherza su certe cose avete visto quando si parla di matrimonio di amore come dire vabbè poi gli passa finché morte ci separi oramai è una barzelletta io non ci scherzerei più perché viviamo in un mondo pieno di tragedie pieno di sofferenze e noi vogliamo pregare per quelle famiglie dilaniate per quei giovani che crescono in famiglie dilaniate dove c'è divisione dove finisce l'amore c'è il rancore c'è la sofferenza e lì chi ci metterebbe mano chi ci metterebbe mano sapete è facile costruire da zero per il mio ruolo di pastore ho cambiato diverse comunità sempre perché mi è stato chiesto non c'era bisogno altrove non per altro ho dovuto fare diverse ristrutturazioni e sono arrivato alla conclusione che sarebbe meglio costruire da zero che ristrutturare vero c'è qualcuno che c'è esperienza qui ma io voglio dirvi una cosa non c'è vita rovinata dove non sia dove Dio non sia disposto a mettere mano Dio opera opera Dio mette mano laddove nessuno metterebbe mano ricordo tempo fa portai una vecchia macchina da un meccanico aprì il crofano guardò poi fece così io qua non ci metto mano sapete quella è proprio una dichiarazione terribile io ringrazio Dio perché lui ha messo mano nella mia vita e non c'è vita rovinata dove Dio non possa mettere mano a voi che stasera vi battezzate voglio dirvi coraggio colui che ha cominciato un'opera la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù perché l'opera di Dio che è cominciata da Dio quell'opera potente straordinaria è un'opera alla quale Dio non smette di lavorare dopo la salvezza e il battesimo nello Spirito Santo è il frutto dello Spirito Santo il servizio al Signore la gioia la pace essere testimoni anche solo col sorriso vi prego quando prendete il treno per andare al lavoro pure se oramai siamo tutti con lo che ho fietto e pure io ma almeno un sorriso a chi ci sta di fronte viviamo in un mondo disperato e a volte essere luce può essere anche solo questo se c'è qualcuno in cui Dio aveva cominciato un'opera e tu l'hai fatto fermare questa sera mentre questi cari scendono nelle acque battesimali permetti al Signore di rimettere mano alla tua vita la Bibbia dice tornate io non vi mostrerò un viso accigliato perché chi viene a me dice Gesù non lo caccerò fuori e se c'è qualcuno stasera che forse non lo ammetterebbe mai ma ha bisogno di Dio nella sua vita forse non sei un aspirante suicida come carceriere di Filippi o forse sì troppo spesso l'avversario consiglia alle persone che vale più da morto che da vivo c'è uno solo che con la sua morte ha acquistato valore ed è stato Gesù che è risorto e che vive per l'eternità forse non sei schiavo o schiava di Satana come quella ragazza forse sei una brava persona che ti piacerebbe sapere un po' più di Dio Dio vuole fare un'opera nella tua vita un'opera di rivelazione se non lo conosci un'opera di liberazione se sei schiavo di qualche vizio di qualche peccato particolare di risentimento di amarezza di paura non mi fate continuare perché lo Spirito Santo parla lui ai cuori e Dio vuole fare qualcosa nella tua vita anche se tu pensi che la tua vita non vale più la pena di essere vissuta a Filippi il Signore cominciò un'opera un'opera di Dio un'opera straordinaria un'opera la quale Dio non smette mai di lavorare Dio non si stanca mai di lavorare è una storia che mi fa sempre sorridere i miei genitori sono andati via molto presto noi abbiamo vissuto un momento terribile quando fummo sfrattati da una casa in affitto e fummo buttati in mezzo a una strada ospitati per compassione da parenti e papà ebbe in eredità un pezzo di terra di mamma da mio nonno materno e ci costruimmo una casa una casetta la ditta fece la struttura tutto per bene e poi cominciamo a fare noi i pavimenti cose il problema sapete qual è papà era di cultura contadina anche se era ferroviere non c'era estate che non doveva fare qualcosa è una volta il muretto è una volta la ringhiera è una volta il vialetto e allora a un certo punto noi diciamo ma chissà che si inventa papà che dobbiamo fare perché quell'opera era la sua casa era stato sfrattato insieme ai figli piccolini e lui voleva sempre fare migliorie e così un anno facemmo la piscinetta poi un anno la cambiamo e poi facevamo quello io voglio dirvi una cosa noi siamo l'opera di Dio Dio ci ha creati anzitutto il peccato ha compromesso quest'opera a Dio vuole fare un'opera di grazia e lui non si stancherà mai di lavorare alla tua vita non dire Dio ha finito con me non c'è più niente da aggiustare non c'è niente da fare Dio vuole mettere mano alla tua vita stasera glielo permetterai vogliamo chinare il nostro capo un istante soltanto vi chiedo di ascoltarmi ho concluso soltanto un appello dal mio cuore al vostro cuore serve